Musica Salve ragazzi qui stefancaos e oggi siamo qui con Wolf e come potete vedere su GTA V Wow si così baby Aspettate che avevo un microfono su ma che non mi sentivate bene Vabbè io lo tengo su tanto mi sentite Comunque adesso qua siamo sulle F620 Coupé E non mette sta visuale che fa cagare Che altrimenti non gliela fai vedere Che è secondo me la Maserati Io non vedo l'ora di provarla in questo video di GTA V Perché io mi dico Dicono che le macchine non sembrano più di carta Cosa che avevamo detto comunque No vabbè la guida è molto più arcade Comunque a questo proposito Prima cosa ad andare a fare è modificare E prendere coltivo di cibo che ho visto in aria Ah si sai ah no è vero posso prenderlo Ah con l'elicottero ci sali sopra No no adesso poi vi faccio vedere Prima cosa andiamo riuscita Scusate sto parlando sparando minchiate Non so se sto sparando minchiate Ditelo nei commenti Che io non l'ho mai Sicuramente Che io non ce l'ho Sicuramente È matematico 55% Posso arrivare fino a settembre Aiuto con questo anno mi ha appena rapinato Si è normale E te l'hai rapinato con la mente Allora è vero che devo anche Aspetta adesso poi devo anche andare a munizione a recuperare Eeeh è qua che si modificano le mani Oh cazzo Perché c'era una Oh senti Aspetta No vabbè lasciamolo qua Ma non ti do per controllo Non ti do Vuoi? Eh? Ah no sono Ah no ho sbagliato Dove l'hai portato? Nel mio garage Personale non nel garage A modificare aspetta Ma sei bravissimo Ah beh ragazzi Colpa mia non No però comunque mi fosse Però non l'ho mai provato Però aspettate Dopo questo epic fail Si Che puoi aggiungere Aspetta Sicuramente lo aggiungiamo Perché non può restare impunito A questo fatto Aspettalo Aspettate che io C'ho il microfono E rompio le palle Ok L'usanto customs Vediamo Ok Customs Non customs Parla di questo È lo stesso No si deve dire customs Poff a bacco Chi è questo plebeo Questo è quello Che ha detto l'inglese Quando hanno visto Travor che arrivava lì E ammassava la regina Purtroppo Ecco Travor vabbè Travor è la stronzaggine È purtroppo Soltanto quello lì Perché adesso Vabbè L'ho preso Non era tanto Che l'ho preso Quindi adesso Sono arrivato A un punto in cui Non si possono usare Flanking e Michael Quindi fa niente Che poi è quello Che è un altro Che è un altro Che per adesso Ha più sonato Quindi ho anche Le altre più belle Ho 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 È un po' È infatti Ma seriamente Ah Ok Allora dovremmo essere Arrivati al garage Cos'è detto A hate? A wonderful world What a wonderful world C'è che non vuole adesso Adesso divertiamoci A modificare l'auto È giusto rigata dietro Vabbè no L'ho riparata Armature Armature Più Ma che cazzo Gli sta di ciali? Spendiamo tutto Dai ma non usa la tutta Flags Sì questo vai Fari Un cielo seno Targhe Ci sta No quella di prima Vabbè no Lasciamo sto qua Perniciatura Con la principale Opaco Nero opaco Ci sta Con questa macchina dopo Si andrà a fare una bella rapinetta E una vestitina forte zancudo Giusto piccola Giusto Ma scusa Se la metti nel garage Nel garage si salva giusto? Teoricamente si Ah quindi tu puoi farla esplodere E ritorni lì C'è ancora No cioè no Non si salva Aspetta vediamo Sì dice Belli questi belli Non fanno fregare Belli Belli Corri Cosa sto facendo Oddio Facciamo questi qua E colore Nero Facciamo un auto No ho sbagliato Scusate Vabbè rientriamo Fa niente Auto body paint Ecco Ho ciò che ti Inchiobavano la macchina E non ti si buggava Allora Ok adesso Rientriamo Che adesso dobbiamo Che sei entrato di retromarcia Entri Cioè magicamente Oh vabbè Eravamo arrivate le ruote Finistrini Molto scurati Ma scusa Perché non si può Scusa Non si può Ma per scusa Non mi lascia modificare fuori Cosa fuori In che senso Cioè mi lascia mettere Le minigone e tutto Perché è già fatta così Le mini Le minigone E gli alettoni Non te li lascia mettere No mi sa che Non te lo lascia Vabbè ragazzi Fa niente Non te lo lascio No Ma strip club Ci sono gli strip club È vero Ci sono anche gli strip club Avevi tutti Sì Ci sarà sta cosa qua Fai così col treno Vai col treno Vai col treno Ma tu sei salire sul treno Io so salire sul treno Eh ma lo si può E qua non lo puoi guidare No preferisco guidare così Perché è più controllato No dai Oh però C'è il treno di dietro Sì Eh non ti immagini Com'è che sta andando Sta piccolina Vai dentro Vai dentro No cacchio Se ne ho un treno All'altra parte Adesso sei fregato Ma secondo me Quello Quello che avevo dietro Lo sembri dato Eh mi sa proprio di sì Ma quanto cazzo Sta andando quello Vabbè ragazzi Come dico sempre Noi italiani Saremmo pure schifosi In tutto Ma fare le macchine Ne sappiamo fare E tanto e tanto Allora aspetta Adesso suggerirei Passare all'ammunition Che giustamente Non te lo da Cinema Ci sono anche il cinema Sì Ma come Ma abbiamo Dice nulla Boh Ogni tanto Ligia Cos'era quel Corrobolico Non lo so Per la serie Ma va oddio ma fa inclinazione non è che mi sta facendo un figo sulla mia nuova auto no scusate dov'è che stiamo andando stiamo andando in cui i lupi ecco ammunisce non c'è neanche no no aspetta no c'è uno lì che fai prima no guarda anche fuori così almeno non rischi di farti inculare oh bravo meglio così ma senti come cambia è troppo bello sentire questo auto qua è la coluna potenza della natura e naturalmente non è che l'abbiamo fregata a un passante no no beh poi ho modificato quindi in teoria è il tuo diritto è il tuo diritto infatti dov'è che sto andando in cui le lupi seconda volta che l'ho detto ecco a quest'ora evitavi ecco a quest'ora evitavi a quest'ora evitavi ecco vai vai così eh ti permite per me aspetta ti parlo anche qua sono anche abbastanza belle io bevo I'm coming no ve l'ho sfondata ah no aspetta allora aspettate ma te la possono sfondare la macchina e prendertela se ci può ma non sono ma si può possono fregare non lo so allora aspetta far hard safety no aspetta adesso voglio fare una prova ragazzi non provatelo a fare a casa vostra no 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 ti fotte ti fotte ti fotte ma perché non me lo ah no non te la lascio proprio prendere eh no perché altrimenti ti uccide cioè in teoria io negli altri no non te la lascio prendere eh no ti evito una morte inutile allora ce l'ho tutti no aspetta posso prendere no non ho ancora sblocato fai niente no si si va bene mi serviva poi no ho bagliato cacchio quello è tirato fuori d'arma beh certo no no posso fare io posso fare io adesso no non me l'ho ucciso ma poi lo guardi adesso la roba dentro no no fai niente si posso farlo posso fare aspetta please ah quella macchina rossa era bellissima stira ne uno scappano scappano però dopo arrivi arriva wolf che li stira vai controcorrente mamma mia da figo fai adesso con il cacchio aspetta no vabbè oddio ehi polizia non si dovrebbe mai superare da destra eeeh vabbè soprattutto da un fuoristrada siamo in gta 5 quindi ma noi siamo fuoristrada proprio fuori dalla strada ah fuoristrada mamma mia vedo le palle ma è una bellezza sta macchina va più veloce del vento aspetta adesso andiamo aspetta non aspetta ma cacchio non l'abbiamo segnata c'era forte zancudo eh vabbè fai niente eh pazienza dai aspetta c'è una cosa che questo qua dovrebbe essere ricco quindi ehi aspetta una cosa eh vediamo se c'è polizia pirata del volante a me non piace quando a me non piace stare da qua che devi prima passarci nelle zone prima di passare dalle zone prima di poterle eh vabbè conoscere sapere dove sono dunque bellissimo forza poi giustamente gli periti sta passando aspetta ce n'è una dietro no tu non mi puoi vedere ecco ma visto ma visto alla grande aspetta dobbiamo uscire ah no ho sbagliato sto qua mica si esce no aia ciao pirata del volante oh ma cosa vuoi sono in concetto ma che dia ma che dia sta succedendo oh pirata del volante gli è stordito un orecchio sto muro faccio che ne arriva uno 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 quando ne arriva uno ne arriva uno ah che sfigato è andato nell'altra parte un napoleto sì ma penso che hanno capito che un'auto americana contro una Maserati soprattutto ma la Maserati è italiana? sì sì ma ste qua sono sti qua vanno in giro con auto americana potete mi tolgo un attimo le cuffie? cioè non so se hai aspetta mi gratto le orecchie perché mi prudono per ah sì comunque stavo dicendo che per adesso siamo su giocatore singolo comunque faremo qualcosa anche su no aspetta adesso dobbiamo farvi una rapida no la rapida la faccio io forse ne capisca no non ho provato a farlo non ci penso io devi solo puntare io faccio un fucile sali sali lì aspetta eh siamo scappati l'idea di vittoria andiamo a rapinare il gratin bel fa più guarda quanto l'hanno ordinato io fratello daccine la siga oddio no non rapinarlo ah no oddio anche questo che hai sicuro che ma non ti lascia rapinare perché ti ah aspetta prenditi i vestiti di nuovo si vabbè ma non è bello mi stavo antipatico non è bello così però ah no vabbè c'è il gratin bel ho sbagliato c'è il gratin bel dietro prima che adesso ho la polizia io vabbè ho andato avanti perché non sono più ammoliti allora aspetta c'è una cosa mettiamo qua dietro punto di interesse comunque è troppo bello ma è che c'è il suo punto di interesse è perché così li sappiamo che c'è più che è bello comunque non ho capito questa storia qua che non puoi rapinare in quei posti eh vabbè eh vabbè ma cosi eh ma what's up sto benissimo prenderlo what's up sarò un po' l'intivision micrico si sta rompendo il flash ok adesso mi hanno segnato la polizia giù le mani devo provare assolutissimamente GTA 5 perché io non ho mai provato GTA 5 quindi vedrete i miei primi passi tra virgolette su GTA 5 ci sta ma cos'è il crack in bell? oh you don't fuck off 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 naturalmente non è che stia facendo una strage è figata però si ma non è che posso andare o non ho ancora sblocato ma non credo no 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 non si sblocca mica i posti quellare almeno che no intendo per entrare per comprare qualcosa così no che anche in mezzo è che non si può andare ma in cielo prendete questo duo vai pistoletta no ale vai 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 bombetta bombetta ci sta una bombetta ma che ah ah se non si vede ma li sta insultando oh mi inzica ma adesso veramente è un insulto sti qua paura non è fermissimo mi sta insultando ce l'ho fatto fuori una gomma ahia ok sono nei guai sono nei guai ma adesso muori 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 soffri oh cazzo soffrite guarda che la polizia è un bel power questo troppo non come questo ma che vera fu struttura in faccia è finito l'abilità e adesso via hanno cambiato la cosa era più quella oh cazzo oh sono dei vostri non c'entro niente eh ti immagini ma poi come fanno a sapere che sei proprio tu quello in macchina non si manca più oh oh hai rimasto la sua macchina permesso polizia polizia avvia di qua avvia di qua avvia di qua scusatemi sta andando ad arrestare un terrorista ma minchia sei l'incognito guarda ma che non è anche atterrato c'è neanche l'espressione no eh sì 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 gli ultimi dieci minuti ma che dieci minuti no aspetta devo soffrire devo soffrire ah cazzo devi soffrire devi soffrire oh lave ma che oh va ma io mi ricordo che la prima volta che morivi non mi ricordo dove ma mi hai imparato proprio la lezione sei proprio no come si chiama recidivo no recidivo ho portato il piede alla polizia porca tua ok oh spara all'elicottero all'elicottero ci sta no aspetta sta qua a miseria no spara all'elicottero prima sta arrivando all'elicottero e si vede sulla minimappa sveglio non so che si vede sulla minimappa allora perché oddio ho già tre stelle cioè che cos'è ma mi hanno perso di vista ma cosa è quello il puttino rosso perché c'è un puttino rosso ah perché saranno dei cosi che devo evitare no sono dei nemici si sono i nemici sparagliari ah davvero ma cosa vuole ma chi è non lo so vai a vedere vai a notare chi è un bimbo micchio o chi è oh eccolo vai vai prendilo prendilo vai così che ne ha ammazzato una ma c'è la mira automatica oppure non mi ricordo più non mi ricordo più non ho messo sicuramente manuale ma perché puoi mettere anche manuale si finalmente così tu potrai far vedere quanto la mia bellissima mira mamma mia quelle lì sono ma sbaglio o parla quando usi la sua abilità si cari sono squadre ma dai adesso tocca a stefan caos però questa volta io imparato l'elezione non vado più che a me nel guai sicuro io personalmente avrei qualche luce fidatevi di me e io si imparagino su questi poi vabbè io lo faccio ogni volta che anche quando ci stai giocando da solo a casa io spunto dalla fine dico vabbè vai così corri 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 aspetta prima di tutto ma che si ah oh l1 oh si così vai così ma adesso c'è la volta delle albi è bello che cuore è una figata che rallentano il tempo cioè è una roba assurda vai così ok bene 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 scusi signore scusi no cacchio continuo a sbagliare ok scusi 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 signore si lei scusi no scusate scusate scusi io l'ho riuso pam oddio 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 signore 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 oddio signore fermi forca d'ora e poi attualmente ti ricerca subito la polizia e questa camera qua non è un po' brutta è un po' starto non si è fermato signore è un po' starto come si pericava no ma già è tutto calco ah ok è omissione di soccorso questo ah ok sta già finendo ma che strano scusate 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 con signore potrebbe scendere sì lei è bravo lo so è pur la macchina merdosa omigua fanculo a sto mondo oh signore oddio è la macchina messa amare quella lì c'è di voi da dai no voglio perdere tutta la mia notorietà no cazzarola no porco giuda all'inversione ma porco giuda porco giuda finissi no per fuori via via delle palle via delle palle via delle palle con quell'auto lì poi ma va è uno spettacolo è uno spettacolo ragazzi mettete mi piace e vincerò con quei e vincere vabbè a parte che l'abbiamo già ricarica oh cazzo oh mio dio no ma cioè vado all'inverso così vai così vai così guarda 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 che ragazzione mamma mia no ma te l'ho spinto l'uo ah grazie vai bisogna fare un po' di oh cazzo vedete come vado oddio porco giuda devo andare lì sopra eh no non ce la faccio mi mitragliano prima che riesco a dire ah quindi però lo specchietto me lo porto a casa questo specchietto stronzi oh oh e loro non ce la fanno salire su giuro giusto ma tutte le macchine che potevano prendersi sono andate a prendere quella merdosa probabilmente non ce la fanno sono privi di pollici oppolibili veramente ma che buongiorno vergognati c'è un campo da calcio dov'è la palla signori posso giocare signori ho detto dov'è la palla voglio giocare ok ho fatto una merda ah no aspetta devo adesso aspetta fare una cosa ah si si lo so come si fa no aspetta dobbiamo mettere qua per voler fare una prova adesso poi adesso poi devo provare a fare una cosa io ah grazie grazie per essere ah no aspetta devo provare a fare una cosa vediamoci oh si la bicicletta eh non l'avete il coglione eh il front flip deve fare guarda eh oh ecco figura di me oh salì no dai oh no 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 dai adesso mi sono reso aspetta eh un luttacca un luttacca un luttacca ma che io becce e si è bloccata come si è bloccata si è bloccata spargli per accenderebbe essere un altro ok allora ci sono due belle signorine allora non pensiamo male però in senso devo fare una prova ma cos'è che fanno se inizio ah qua c'è un'altra bicicletta che non c'è nessuna novità vabbè pazienza adesso passa torniamo alla nostra vecchia vita inerne inerne con un fucile a pompa vabbè fa niente è bello che ha pure la lucina è una figliata e io vabbè 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 buongiorno signore l'avevo l'avevo appena comprata dai che se ne frega no scusi signore scusi no mi scusi non volevo no non volevo signore venga qua signore mi dispiace scusi no mi è bello che mi dispiace pure è quello che è il piccolo problema così grazie per avermi per centrare la visuale è soppressa ah si quello lì che ha ah no aspetta aspetta ci sono i nemici questi sono i nemici no si può fermarlo prendo sotto ah no fermati un attimo aspetta ah ah l'ho salvato no aspetta aspetta no ho capito 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 no 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 fermati adesso guarda aspetta guarda quella che faccio no 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 puoi farla via voglio salvare la vita voglio oh cazzo ma cosa ecco no devi riportarla con lui in blu ma anche no ma do do ma puoi anche tenertela aspetta facciamo la prova eh chi sta qua tranquillo intanto poi più un po' ti farò giocare prima o poi domani allora bisogna passare di qua di su di giù di giù di destra di sinistra guarda quella che facciamo questa qua è maggiore in realtà ragazzi non fatela mai a casa vostra ma che eh si stiamo andando in autostrada in bicicletta oh si accendono anche le luci che figato aspetta vediamo no aspetta fai così ok bravo ecco aspetta adesso si sta ma perché il rosse è la vita e sta salendo ah non so la qua però un po' finisce la resistenza tatatata 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 si è messo guarda mi sono tutti guarda un 3 ca un 3 ca un 3 ca un 3 ca un 2 in che ossia di solo passo vale no voglio vedere se tu ti metti il ferroio ah no perchè vedi ho esaurito la resistenza oh porca fai oh ti sta pure passando so aspetta aspetta lo fermo io si ferma lo fermo io quel pezzo di merda vieni qua vieni qua vieni qua il tuo pezzo di tutto stronzo vieni qua sta tutto come fermato vedo e adesso tu mi dai la tua macchina come pegna vai qua ah no aspetta fermati un po' per affegarmi l'altro la polizia no 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 mi corra dietro con un cane in calore ma che dà la po' oddio scusate signore solo che ho una piccina ma che uuuh scusi fuck up vabbè sentire se adesso adesso su questa strada ci dovrebbe essere una un bel naso no non credo proprio c'è il naso che passeggia no 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 eh tollo l'occhi comunque cos'è che ha 4 skykies su qua si chiama pure veloce la cavalcav è la cavalcav veloce veloce no no veloce no veloce no artetola uuush guardandoli su proprio guarda su un peggio di ma che guardala guarda guardala guarda eh eh no lo sai se bastianfettel no dobbiamo andare sull'altro tu stadi è che bastianfettel ero a vero facciamo una cosa petta 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 per finire cioè petta 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 oh quella lì è forte del culo quella è forte del culo sì è forte del culo no sei ammattinacchio non è forte del culo eh no che vuoi se proprio vuoi morire Eh sì certo Vai così Una bella entrata alla figaggine più pura Però bisogna avere un'arma Eh beh però lì non ti servono le armi Tu devi andare a tutta birra Verso il tuo obiettivo Non l'ha aperto Ma che Oh perché si avvicina Perché dovranno fare il controllo Oh ma si copia Non si fa un culo Fa un culo a senso Ma che Perché Ah ma non dovevo Ah dovevo andare dall'altra Ah ma perché io sono favor No questo qua è penitenziario Non è forza un culo Ah cambiamo il visuale Ah no aspetta Devo fare il culo a tutti Buongiorno No no come va Ma non puoi Ah il pop me What the fuck What the fuck Ah vuoi vedere dove ti parcheggio la macchina Ah no no aspetta Sai che No ti faccio Aspetta Solo che il sistema Vediamo se funziona Allora Allora devo andare in contatti Con il dirigibile entriamo Con il dirigibile entriamo Tu dovrebbe arrivare il dirigibile Ah no è vero me lo consegna avanti a casa No due Trevolo Ah no trevolo Ma dove è che me l'ha consegnato Vabbè ragazzi lasciamo stare Vabbè poi ve lo farò vedere E io vabbè cosa faccio Cosa posso fare adesso Prendi un M16 e vai dentro Io direi Cosa Ho questo Oh sì 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 Io mi piace troppo Mi piace troppo Mi piace troppo Vai così vai così vai così vai così Aspetti Signore Guarda che Nessuno Dovremmo chiudere ragazzi Non lo so Però aspettate Ok ma adesso possiamo darci Piam Oddio 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 Quattro stelle Come quattro stelle Ma siamo fuori Siamo matti Siamo Siamo Stefan Klaus C'è proprio Lì quello lì tranquillo Ma cosa fa Signore deve lavorare Oh cazzo E' uno fucilato Eh sì Ah c'era sopra qualcuno Eccolo gli pezzi di Ma muore infatti una vita Oh cazzo Ecco infatti Diciamo possiamo smettere per oggi Da Stefan Klaus E da Wolf Perfetto Ciao